Ciao ragazzi, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review 2.0. Questa settimana parliamo di adduttori. Prima di andare avanti, ricordati, metti mi piace al nostro video e al nostro canale. È un piccolo gesto per noi veramente molto importante che può aiutare a far crescere questa community. Gli infortuni agli adduttori sono purtroppo molto comuni e l'aspetto più interessante, se così si può dire, legato a questa problematica è che una volta avvenuto il primo infortunio il tasso di re-ingiuri è molto alto e questo chiaramente poi porta ad un circolo vizioso che può compromettere definitivamente le performance. Vediamo in questa review da cosa dipende, se così si può dire, e soprattutto quindi come prevenire. In questo articolo appunto l'obiettivo è quello di valutare quelli che sono i fattori di rischio per gli infortuni e gli adduttori i quali sono abbastanza comuni, lo sappiamo bene, in tutti gli sport che coinvolgono accelerazioni, decelerazioni, cambi di direzione, calcio eventuale di un pallone. Sappiamo anche che, un po' dalla letteratura scientifica e dai vari studi, il percentuale di rischio di rinfortunio è 2,4 volte superiore per i giocatori che hanno subito infortuni, che hanno una storia di infortuni appunto agli adduttori, questo chiaramente innesca un circolo vizioso che ovviamente sul lungo termine va a compromettere la performance e ovviamente anche la carriera dell'atleta. In accordo a quelli che sono alcuni studi precedenti sugli adduttori o comunque sul rischio di infortuni, a livello di prevenzione c'è un processo a quattro step che prima di tutto deve chiaramente valutare l'infortunio in maniera specifica con un sistema di sorveglianza, questo è seguito dall'identificazione dei fattori di rischio e i meccanismi causativi attraverso un'analisi prospettica e l'identificazione dei pattern di infortunio, lo sviluppo e l'introduzione di strategie quindi preventive e la valutazione sul lungo termine di queste strategie. Ad oggi non c'è un consensus su quelli che sono i fattori di rischio e gli infortuni agli hamstring e questo chiaramente è l'obiettivo dell'analisi. Cerco di riassumere per andare a un po' snocciolare la parte centrale della questione, 29 studi sono stati inclusi in questa review sistematica, qui vediamo il livello di evidenza ma ci interessa il giusto, o meglio ci interessa molto ma parliamo delle cose importanti. Ad oggi i fattori di rischio maggiormente indagati sono età, range of motion delle anche, forza degli aduttori, altezza e peso. Oltre a questi ovviamente storie e infortuni precedenti, livello di gioco e come abbiamo detto bassa forza degli adduttori, dei muscoli adduttori, sia a livello isolato che in relazione con gli abduttori e un basso livello, quindi diciamo un allenamento poco sport specifico, sono associati ad un rischio di infortuni. Questo invece al contrario di età, peso, body mass index, altezza, basso range of motion, quindi scarso range of motion e performance sui fitness test come altezza di salto, leg power misurata sullo squat, sprint, calcio e vo2 max. Quindi sorprendentemente questi valori qua, soprattutto vorrei far notare forza versus mobilità, quindi la mobilità non è un fattore di rischio, mentre la forza sia in maniera isolata, sia soprattutto in rapporto con l'azione opposta, quindi l'azione abduttoria, quindi i muscoli che coinvolgono l'abduzione, questi sì sono considerati fattori di rischio importanti. C'è un consenso della letteratura che supporta il fatto come precedenti infortuni, alto livello di gioco e come abbiamo detto la forza e un allenamento non specifico che si adatta a questo alto livello, ovviamente sono fattori di rischio importanti. probabilmente il concetto legato alla storia degli infortuni è probabilmente spiegato da un return to play, quindi un processo di recupero non corretto, mettiamola in questi termini qua, che chiaramente poi porta l'atleta a ritorno in campo in condizioni non adeguate e quindi ovviamente aumenta il rischio di ira e infortuni. Ovviamente i livelli di forza, scusatemi, prima gli alti livelli, quindi l'alto livello è ovvio che sia correlato ad una intensità di allenamento maggiore, quindi ad un rischio maggiore, evidente, i livelli di forza possono ovviamente risultare in una diminuzione della capacità muscolare, squilibrio tra muscoli sinergici e antagonisti e quindi puoi chiaramente andare a compromettere tutti quei movimenti sport specifici che se eseguiti ad alta intensità ovviamente no, può aumentare il rischio di infortuni. Sport specific training ovviamente è importante perché? Perché previene quelle che sono muscle weakness, quindi debolezza muscolare, imbalances e ovviamente lavori sui pattern specifici di allenamento, quindi questo è fondamentale, più si alza il livello e più è importante allenare la specificità. Sul basso livello probabilmente questo è meno notato, infatti c'è una correlazione minore tra l'allenamento sport specifico e il basso livello. Come abbiamo detto, tutti questi altri valori che spesso vengono considerati età, BMI, ROM articolare soprattutto, non danno risultati invece conclusivi e questo è molto 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 importante. Per quanto riguarda invece la parte legata a cosa possiamo imparare, no? Qui questa è la sezione dell'articolo, cosa possiamo imparare dagli altri infortuni. abbiamo visto che in realtà questi risultati sono molto coerenti con quelli che sono gli altri infortuni, quindi hamstring, retto femorale, quadricipiti in generale, dove appunto anche qui è soprattutto la forza, l'imbalance muscolare, piuttosto che ovviamente le ricadute, quindi i re infortuni, il tasso degli infortuni, sono fattori di rischio importantissimi, piuttosto che molto spesso il ROM articolare, che viene considerato nei test classici il fattore di rischio principale, mentre in realtà, soprattutto preso in maniera isolata, non lo è assolutamente. È importante quindi lavorare soprattutto nell'atleta infortunato per portarlo ad un livello di fitness molto alta, lavorando in maniera sport specifica, lavorando sul controllo motorio e lavorando sull'aumento della forza, sia ovviamente in maniera isolata, ma soprattutto in maniera globale. Spero che questo articolo vi abbia dato degli spunti interessanti, se avete qualche dubbio, domanda o curiosità, ovviamente commentate. Vi ricordo ancora una volta di mettere mi piace al video e al nostro canale, attivate la campanella, così da non perdere i prossimi appuntamenti con il canale YouTube di Performance Lab e ovviamente con me e The Weeks Review 2.0 il prossimo fine settimana. Un saluto!